Il servizio è stato offerto prima di tutto ad Alfonso, signor Belleri. A chi l'ha comprato il servizio, signor Belleri? Risponda a questa domanda, a chi l'ha comprato? Aspetti che sto tremando di polla. Ah, a chi l'ha comprato? L'ha comprato dall'agenzia Masi. A chi l'ha comprato? No, l'ha comprato dall'agenzia Printimedi. Telefoniamo a Scarfone e chiediamo a chi l'ha comprato. Telefoniamo a Scarfone. Ah no, telefono a Scarfone, mio cliente, se ne vuole le do anche il numero di cellulare. Se siamo in ascolto può chiamare, naturalmente. Siamo in diretta e il numero dovrebbe avere. Ma volevo capire questo passaggio, perché onestamente non l'ho capito. Avvocato Lervaini, l'abbiamo interrotta, quindi continui e finisca il suo ragionamento, avvocato. No, ma non c'è nessun ragionamento. Purtroppo smentire quello che dice Fabrizio Corona è un po' difficile. No, no, ma noi volevamo capire di chi era questo servizio. Il servizio l'ha girato Max Scarfone. Ha cercato di venderlo tramite Fabrizio Corona, non è riuscito. Struzzatele! Ha cercato...